Kinder Fetta al Latte è la merenda con tutta la freschezza del banco frigo Perché è fatta con tanto latte Kinder Fetta al Latte è fatta con l'alimento più completo Il latte fresco pastorizzato Che fame! Anch'io! E quel suo gusto così fresco piace di più Kinder Fetta al Latte Quella in più che completa la merenda E con 10 prove d'acquisto puoi vincere 200 City Bike Specialized 4000 Zaini Ferrino